Remaglio Di Stefano, sottosegretario degli esteri che è con noi stamattina. Grazie, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora vogliamo, poi andremo ovviamente sui temi più di sua competenza, però insomma vogliamo cominciare dalla circolare del Viminale che tanta polemica sta creando. Insomma da una parte si dice genitori con un figlio, un genitore e un figlio, insomma nei pressi della propria abitazione per dar modo ai più piccoli di uscire, di prendere un po' d'aria. Dall'altra parte però c'è anche l'Istituto Superiore di Sanità che dice attenzione non allentiamo adesso perché vediamo che qualche numero sta calando. Addirittura Lombardia e Campania dicono questa è una comunicazione irragionevole in qualche modo. Mi dice la sua. Viminale ha già chiarito che darà ulteriori spiegazioni, però mi sembra evidente che la necessità si pone verso quei bambini piccolissimi che in questo momento stanno veramente soffrendo il fatto di stare chiusi in casa. Considerate che gran parte degli italiani vive in appartamento tra i 40 e i 70 metri quadri. Bambini molto piccoli ne va ovviamente a rischio la loro sanità mentale. Di conseguenza si sta dicendo semplicemente in casi di questo tipo, quindi non se hai un figlio di 16 anni, in casi di questo tipo portarlo sotto casa, torno al palazzo, per qualche minuto al giorno lo puoi fare e poi torni a casa. Ovviamente come tutte le norme serve anche che ci sia il buonsenso delle persone. Non è il Tana libera tutti, non è che sei un figlio di 14 anni e ti va a fare la passeggiata insieme. È il fatto appunto per i bambini che non possono fare da soli nulla. E appunto Viminale, insomma, credo che ci sia stata un po' di confusione intorno a questo punto. Il Viminale appunto ha detto che chiarirà, insomma, nei prossimi minuti, nelle prossime ore. Veniamo invece, allora, parole di Speranza stamattina, ma insomma già lo sapevamo, è stata assolutamente l'ufficialità, 13 aprile fino a quel momento, cioè fino al giorno di Pasquetta, insomma. Tutte le misure di restrizione poi si vedrà, vedremo l'andamento, dovremo convivere con questo virus. Speranza dice che non possiamo sbagliare tempistica, perciò si va avanti fino al 13, sottosegretario. Beh, noi abbiamo detto in modo molto chiaro che sarà la scienza, dice, fino a quando si va avanti. Avete visto in questo momento in altri paesi del mondo il cosiddetto contagio di ritorno, quindi dopo che hanno allentato le misure, il ritorno ancora più massiccio. Bisogna necessariamente ascoltare la scienza, affidarsi a loro. Io diffido anche dei politici che pensano di avere la soluzione in mano. Noi stiamo già programmando il rilancio del paese ogni giorno. Io stesso lavoro per le imprese, per pianificare le campagne per l'export, per quando finirà la crisi, ma intanto dobbiamo pensare alla salute dei cittadini. La salute è come preservarla, ciò dice la scienza, i medici, l'istituto sanitario superiore. Quindi è lì che è il centro della nostra attenzione. Quando ci diranno che siamo fuori pericolo, allora sarà tempo di riaprire tutto. Ma non è ancora il momento. Chiaramente a poco a poco riapriremo filiere, quelle che si possono controllare meglio. Il paese tornerà ovviamente alla sua normalità, ma dobbiamo pensare alla salute dei cittadini prima di tutto. Allora, veniamo invece alle parole di Conte, che ci danno spunti di riflessione. Conte che ieri ha parlato alla televisione tedesca e in qualche modo ha mandato un messaggio ben chiaro. Ha detto attenzione tedeschi, perché dobbiamo prendere decisioni insieme, dobbiamo scrivere la storia insieme e non un manuale di economia e voi non pagherete un euro di debito del nostro debito, indipendentemente da quelle che saranno le decisioni che si spera prenderemo insieme per affrontare questa macro-crisi. Anche il Quirinale, in qualche modo, ha consigliato saggiamente al Presidente del Consiglio di non andare in rotta di collisione, troppo dura, anche con quegli Stati che in questo momento hanno posizioni completamente diverse dalle nostre. Diciamoci la cosa come stanno. Storicamente, non durante il Covid, ci sono due blocchi in Europa. I cosiddetti paesi del Nord, che hanno una linea molto più legata all'austerità, a quei concetti che abbiamo visto dall'era Monti in avanti, e poi i paesi del Sud, che credono che bisogna lasciare un po' più di cinta lenta per poter lavorare meglio sulle manovre economiche. Tutto questo valeva con un normale dialogo politico in tempi di pace. Oggi, come diceva Conte, non stiamo qui a scrivere un libro di economia, stiamo qui a scrivere la storia dell'Unione Europea. Noi abbiamo già stanziato grandi risorse, e dicevo prima quello che facciamo in Farnesina, soltanto per l'export abbiamo messo quasi 700 milioni per la ripresa. Stiamo già stanziando ingenti risorse, e ce lo possiamo permettere, perché usciamo da uno schema mentale che l'Italia è sempre quella che ha sbagliato tutto. L'Italia ha un debito pubblico alto, ma ha tutti i parametri economici in regola. Di conseguenza possiamo spendere, se c'è una logica europea comune, e stiamo dicendo all'Unione Europea, e ai paesi del Nord in particolare, ragioniamo in un termine macro, quindi sul futuro dell'Unione Europea, perché paesi come l'Italia hanno bisogno di spendere, e devono spendere. vorremmo farlo tutti d'accordo nei parametri europei, ma se non ci permettete di farlo dentro i parametri, lo faremo comunque, perché altrimenti il nostro paese ne risentirà in modo grave. Tra l'altro è una problematica comune, perché Germania, Francia, Spagna stanno subendo i colpi del Covid, tanto quanto l'Italia, se non di più. Quindi credo che ci voglia buon senso, e se parliamo dei messaggi del Quirinale, vi ricorderete anche il messaggio che ha dato invece il Presidente Mazzarella proprio tre giorni fa, in cui ha detto chiaramente all'Unione Europea che è tempo di fare un passino avanti. Sì, sì, e lo ricordiamo bene. Un'ultima battuta di Stefano. Siccome arrivano anche a noi, ne arrivano tantissime quotidianamente, mail, messaggi di italiani all'estero che vorrebbero rientrare. So che a Farnesina in queste settimane sono arrivate migliaia di richieste in questo senso. Mi fa un po' il punto della situazione. Allora, ad oggi abbiamo rimpatriato circa 45 mila connazionali nelle più disparate situazioni, chiaramente. Ovviamente abbiamo delle regole precise perché soltanto gli iscritti all'Aire, quindi al Registro dell'Italia all'estero, sarebbero 5 milioni. Stiamo rimpatriando tutti quelli che sono all'estero in maniera occasionale o temporanea e quindi non possono permanere all'estero. Chiaramente lo stiamo facendo con dei voli speciali organizzati per lo più con Alitalia, Ebru Panorama e Neost, voli commerciali. Vorrei sfatare anche un mito. Non c'è un problema di costi eccessivi perché abbiamo concordato i costi con le compagnie aeree e trovate tutte le informazioni sul sito www.esteri.it dove c'è un banner che dice proprio emergenza Covid. Cliccando trovate paese per paese tutte le soluzioni. Dietro questo c'è un lavoro enorme della Farnesina perché ogni paese in questo momento ha blocchi aerei, restrizioni sul transito e blocchi sugli italiani specificatamente. Di conseguenza per ogni volo si concorda tutto un ITER. La logica è se avete necessità urgente e reale altrimenti state dove siete di tornare in Italia contattate l'ambasciata in loco che vi mette in un registro di accesso poi ai voli speciali. Ma il messaggio che voglio dare in modo molto chiaro è se potete rimanere in sicurezza dove siete rimaneteci perché chiaramente diventa una complicazione per tutti quelli che invece non possono fare altrettanto e devono tornare per forza. Chiarissimo. Di Stefano, grazie. Buon lavoro. Ci ritroviamo in questi giorni. Buon lavoro. Grazie. Grazie a Maglio Di Stefano, sottosegretario degli esteri. Così abbiamo anche spiegato quella che è la linea degli esteri per quanto riguarda le migliaia di italiani che in questo momento così complicato sono rimasti in qualche modo bloccati all'estero e che vogliono far rientro nel nostro paese. Grazie. Grazie.